Dunque, all'inizio degli anni 90, il Dipartimento di Scienze Ingegnerie dello Spazio Università di Napoli, a cui io afferivo, ha studiato la possibilità dell'utilizzo dei satelliti e dei radar montato sulla navetta spaziale shuttle per studi geologici. Naturalmente quando si parla di studi geologici si parla di studi strutturali, di studi morfologici, ma anche finalizzati a qualcosa di più, per esempio alla previsione dei terremoti. Infatti nel maggio del 1994 il Dipartimento partecipò insieme all'Università di Stoccarte, a quella francese, al progetto proprio della Comunità Europea, finanziato dalla Comunità Europea, previsione dei terremoti mediante tecniche spaziali in aree tettonicamente attive. L'area TEST fu scelta fra la Campania e il Molise, cioè quella del massiccio del Matese, che è sostanzialmente un massiccio montuoso proprio ai confini tra le due regioni. Ora, nella slide successiva vedremo due immagini dei satelliti europei, e così cominceremo a capire come si interpretano proprio superficialmente le immagini radar, perché sono state riprese quindi mediante antenne radar. Allora, guardiamo un attimo la prima figura. Questa parte centrale è il massiccio del Matese. Qui abbiamo un materiale calcarei. Dove c'è la freccia c'è una pianura alluvionale, qui sulla sinistra c'è altro materiale calcareo, qui sulla destra e qui verso l'alto abbiamo un materiale più duttile. Ora, le zone maggiormente fagliate sono quelle legate al massiccio. Ora, guardate un attimo questa figura, guardate un attimo nella figura questa striscia bianca, queste strisce bianche, bene, senza andare nei particolari dettagli, nel come e nel perché, diciamo che ad ogni striscia bianca che poi potete osservare sulla figura, potete associarvi tranquillamente a una faglia. E qui ci fanno vedere che queste zone sono attraversate da faglie che vanno in direzione nord-ovest-sud-est, mentre qui non lo vediamo. Magari, se volete, la reale mortologia del massiccio del Matese è questa, però a noi ci interessa proprio il difetto del radar per andare ad individuare cose che altrimenti non individueremmo. Quindi, diciamo, semplicemente con la fleccia nera, diciamo che è la direzione di illuminazione. Qui dice che la migliore direzione di illuminazione è quella ortogonale alle principali morfostrutture. Quali sono le principali morfostrutture? Sono proprio queste qua che sono visualizzate nell'immagine ascending. Quindi la direzione è ortogonale alle morfostrutture e ce le fa vedere. Mentre questa è parallela alle morfostrutture, cioè alle faglie, questa è una... Qua faglie ne possiamo soltanto ricavare, non le vediamo, ne ricaviamo attraverso modalità indirette, mentre qui proprio le vediamo. Infatti, se andiamo a guardare ecco qua, l'immagine del massiccio del Matese ravvicinato con la direzione di illuminazione che abbiamo visto prima, quella di sinistra, noi abbiamo praticamente potuto mappare tutte le faglie che interessano il massiccio del Matese e che possono essere tettonicamente attive. Ed è come potete osservare, cioè noi non abbiamo fatto altro che mettere con una linea nera, se guardiamo un attimo indietro questa zona, dove ci stanno le linee bianche che rappresentano difetti del radar di sovrapposizione, in realtà questo difetto diventa un pregio perché ci individua una faglia. Vi sto dando delle, come dire, delle piccole informazioni, ma se qualcuno è interessato a saperne, di cui vi può contattare o può leggere le pubblicazioni che ho fatto. Quindi, andiamo avanti, qui invece, da F con 2 ad F con 2, qui c'è un lago, il lago del Matese, che poi praticamente, che cos'è? È una zona di ribassamento dove la parte ribassata sostanzialmente accoglie praticamente il lago, il lago del Matese. Come si è originato questo lago? Cioè, ci sta una faglia, una faglia trascorrente di cui vi invito ai video precedenti, una faglia trascorrente sinistra che diventa abbeante. Quindi fa questo movimento, una faglia trascorrente sinistra che si apre e diventa abbeante e dentro ci entra l'acqua. Qui invece nella figura si notano una volta stabiliti praticamente che la faglia è trascorrente sinistra e quindi è che si può muovere verso l'alto la parte nord e verso il basso la parte sud, sono stati messi dei corner reflector un po' ortogonalmente allo sviluppo della struttura, sono stati messi questi corner reflector che rappresentano dei punti di controllo al suolo per monitorare eventuali spostamenti. Poi attraverso delle tecniche chiamate di interferometria è stato possibile realizzare modelli digitali del terreno. Quindi vedete con il satellite Earth 1, il satellite Earth 2 si individua una stessa area, si illumina una stessa area punto per punto, punto per punto, senza andare a complicare troppo le cose, si costruisce praticamente un modello del terreno. Eccolo qua. Questo è il caso del Vesuvio. Si costituisce un modello tridimensionale, successivamente questo modello tridimensionale viene in qualche modo ripetuto nel tempo e se si riesce a sovrapporne perfettamente vuol dire che non si è mosso niente, tranne magari un albero che se ne è caduto o cose di questo tipo. Se invece sovrapponendo i due modelli tridimensionali, i due plastici, li sovrapponiamo e c'è una discrepanza notevole, allora vuol dire che sta succedendo qualche cosa e dobbiamo stare molto attenti. Qui la sovrapposizione di questi modelli, DEMS sono modelli tridimensionali del territorio nella stessa area, può individuare dislocazioni millimetriche che proprio bisogna in qualche modo interpretare non come rametti che sono caduti e possono essere quindi in ogni caso relazionate a degli spostamenti che potrebbero essere fenomeni precursori del terremoto. Quindi praticamente queste sono le nuove frontiere della ricerca per quanto concerne la previsione dei terremoti, le strumentazioni spaziali. E con questo abbiamo finito il capitolo sui terremoti. Grazie a tutti! Grazie a tutti!